Enzo Malandrino, precedente della UGEN Agropoli, affiliata alla, vediamo da lei, cartelloni Juventus Soccer School, tante scuole calcio che pullo nel territorio, perché si dovrebbe differenziare la UGEN Agropoli? Io da quando ho preso questa società, esattamente da marzo, ho cercato comunque di fare qualcosa di diverso rispetto alle scuole calcio presenti sui territori, qualcosa di più professionale, un qualcosa di valore, affiliandomi praticamente a una società tra le primarie a livello nazionale che è la Juventus. Sono stato a Torino con i vertici delle scuole calcio a livello italiano della Juventus e ho avuto il piacere comunque di avere questa affiliazione che penso ci darà sicuramente un qualcosa di più rispetto a quello che oggi c'è di già. Le vengono comunque affidati dei bambini, oggi una sorta di pre-raduno, ricordiamo che l'attività comincerà il 15, anche un modo per conoscere i genitori e anche una sorta di responsabilità e di educazione sociale anche per bambini che le vengono comunque affidati a lei e ai suoi tecnici. Ma sicuramente, ecco perché abbiamo scelto proprio dei tecnici preparati, tra l'altro rispetto alle altre scuole calcio ci differenziamo perché ogni gruppo di bambini oltre all'allenatore sta coadiuvato da un responsabile fisso che si occuperà dell'attenzione che ci deve essere dovuta praticamente alla bottiglietta d'acqua, a tutto ciò che serve l'occorrente per il bambino al momento che lui fa questa scuola calcio. Ci stiamo veramente premonendo di un qualcosa di diverso rispetto alle altre scuole calcio proprio per cercare di avere un successo che durerà poi negli anni. Le categorie ce le puoi elencare, quelle che tratterà questa scuola calcio? Ma noi in effetti praticamente le iscrizioni saranno per i bambini che dal 2000 esattamente al 2009, quindi abbiamo cercato comunque di dare possibilità un po' a tutti di fare scuola calcio perché ritengo che comunque la scuola calcio sia importante proprio per far sì per il sociale. Spero che con questa scuola calcio, con l'affiliazione alla Juventus ci possa essere un ritorno soprattutto per il calcio ad Agropoli e nel Cilento. Grazie. 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 Grazie.